Grazie mille. Intanto voglio ringraziare prima di tutto il sottosegretario Giro per questo invito. Molto gradito saluto tutti gli ospiti e rivolgo soprattutto un particolare benvenuto alla direttrice Unesco Irina Bokova che oggi ci onora davvero della sua presenza. Il tema che affrontiamo oggi è un tema a livello globale ed è uno di quegli snodi chiavi della questione ambientale del mondo. Probabilmente ancora più decisivo di quello energetico tra cui pure è strettamente legato. In questa chiave la scelta di ospitare in Italia finanziare dal 2007 il VAP e lo si deve all'ex ministro di allora Pecorario Scanio è di quelle che qualificano il nostro Paese e lasciatemelo dire il Ministero dell'Ambiente che a questa scelta ha dato un contributo importante consentendo di giungere all'ultima intesa che ha destinato risorse stabili annuali al programma che oggi credo possa programmare le proprie attività anche di lungo previodo con rinnovata serenità. Permettetemi di fare una constatazione che riguarda anche il nostro Paese. Noi ce lo dirà probabilmente dopo la dottoressa Boccova abbiamo dei dati in questo rapporto allarmanti. Abbiamo dei dati allarmanti sul numero di persone che sono ancora escluse dall'utilizzo delle risorse idriche e abbiamo dei dati allarmanti sul fabbisogno che il pianeta avrà nei prossimi anni di risorse idriche. Che cosa ci dice questo? Ci dice semplicemente una cosa che quelle risorse che noi per anni abbiamo considerato inesauribili sono esauribili. Questa è la presa di coscienza che il pianeta, il pianeta dico, deve avere nei prossimi anni. Non possiamo più considerare le risorse idriche come risorse infinite perché questo causa quello che diceva prima l'onorevole Giro a livello internazionale guerre, causa povertà in tantissime zone del pianeta e non ce lo possiamo permettere e causa povertà anche nei Paesi industrializzati perché la materia prima è alla base, l'acqua è una materia prima alla base dei nostri processi produttivi. Questo tema è strettamente collegato al tema dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo affrontato questo tema la scorsa settimana a New York alla presenza di 193 capi di Stato. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha chiamato tutti i capi di Stato e ha detto chiaramente questo è il problema emergente del pianeta oggi. Se noi prendiamo atto di questo, cioè se la scienza oggi ci dice che questo è il problema, sarebbe un omicidio che la politica non desse immediate risposte a questo problema. Cioè oggi non affrontarlo immediatamente con quello che già abbiamo detto con la presa di coscienza anche scientifica del problema, sarebbe un atto gravissimo. Io lo definisco un atto contro l'umanità. Se noi non interveniamo subito su questo, noi commettiamo un gravissimo errore. Dobbiamo smetterla di considerare problemi come quella della scarsità di risorse idriche come un problema dei nipoti dei nostri nipoti. Questo è un problema della nostra generazione e dei nostri figli e lo dobbiamo vivere con l'urgenza con cui noi dichiariamo la pericolosità del problema. Perché non possiamo dire è un problema emergente, è un problema gravissimo e poi dire lo affronteranno gli altri. Questo è il peggiore errore che possiamo fare. Allora io lo dico al Paese. Noi dobbiamo affrontare questo tema come una vera emergenza e noi su questo dobbiamo costruire un piano strategico del Paese. Perché questo presuppone un cambio culturale sociale e un cambio culturale da parte del mondo imprenditoriale del nostro Paese. E lo facciamo in due modi, lo possiamo affrontare in due modi. Uno, io ci credo molto la cultura ambientale. Noi dobbiamo spingere molto sulla diffusione della cultura ambientale in questo Paese. Io lo chiamo, ho fatto una direzione apposita all'interno del mio Ministero, che ho chiamato nativi ambientali. Se esistono i nativi digitali e i nostri figli utilizzano il computer meglio di noi, i nostri figli devono essere prima di tutto nativi ambientali. Devono rispettare l'ambiente di più di quello che abbiamo fatto noi. Per questo dobbiamo andare nelle scuole. Secondo me la cultura ambientale deve diventare materia diffusa nelle scuole, al pari delle altre materie. Perché se questo è un problema emergente lo dobbiamo affrontare da lì. Perché solo se loro capiranno che devono rispettare l'acqua lo faranno nel corso della loro vita. Se noi glielo insegniamo, fin da quando sono piccoli, non ce la faremo. E devo dire che in questo, lo dico da genitore, noi siamo un po' scarsi. Perché noi quella cultura lì non l'abbiamo avuta così profondamente. Io appartengo a quella generazione dove la risorsa idrica era un problema dei nipoti dei nipoti, non era il problema nostro. Avevamo altri tipi di problemi da affrontare. I miei genitori uguali. Quindi ho bisogno da genitore, lo dico di qualcuno che mi aiuti a trasferire questa cultura ai miei figli. Lo dice il Ministro dell'Ambiente. Immagino che altri abbiano da genitori il mio stesso problema. Quindi dobbiamo iniziare lì. Questo è il primo passo. Non basta. Io quando vado a convegni di tipo economico sento spesso dire dobbiamo tornare a come eravamo prima della crisi. Io a questa cosa qui non ci credo per niente. Dico che se noi affrontiamo questa crisi con l'impostazione di tornare come eravamo prima abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto. Quel modo di produrre andava bene nel Novecento, non può andare bene nel ventunesimo secolo. Non può andare bene perché quel sistema di produzione consuma troppe materie prime e produce troppo rifiuti. Lo dico da Ministro dell'Ambiente ma lo dico anche da economista. Perché quel modello di produrre, se è vero come vero, che presuppone un utilizzo di materie che non sono più illimitate, vuole dire che quelle materie andando avanti costeranno di più e renderanno quel tipo di produzione non concorrenziale sul mercato. Quindi coloro che si ostinano a volere prendere quel tipo di economia lineare a modello per continuarla per tutto il ventesimo secolo sono imprenditori che non sono lungimiranti e sbagliano i conti per le loro aziende, non per la società, non per il rispetto dell'ambiente. Allora noi dobbiamo passare da una produzione lineare a una produzione circolare, cioè una produzione che utilizza meno risorse prime e produce meno rifiuti, che vuol dire produce rifiuti che a sua volta sono riciclabili e che durante il percorso del processo produttivo producono degli scarti di produzione e sono reimpiegabili in altri tipi di produzione. Questo vuole dire consumare meno materie prime esauribili, questo vuole dire avere meno rifiuti che a loro volte inquinano, ma io delle volte penso a certi tipi di produzione e agli sprechi che ci sono nelle varie produzioni. Quelle sono i metodi che noi dobbiamo riuscire a combattere. E attenzione, l'economia circolare non è un'invenzione di qualche ambientalista che guarda alle cose teoriche. Oggi la produzione, l'economia circolare è una realtà in Europa. Molti grandi gruppi si ispirano già all'economia circolare, la applicano e hanno dei ritorni reddituali positivi per le proprie imprese. Allora è questo il tipo di produzione, il tipo di cultura che deve segnare il nuovo mondo che ci sarà dopo la crisi. Lo dico sia per il rispetto dell'ambiente, che è primario per tutte le cose che abbiamo detto finora, ma anche per dare più produttività al nostro Paese. Per cui se noi riusciamo, prima degli altri, a costruire un piano industriale su queste cose, cioè economia circolare, vuole dire oggi individuare gli obiettivi già che avremo nei prossimi anni per combattere i cambiamenti climatici, incominciare a costruire delle filiere produttive all'interno del Paese che vanno in quella direzione, che sarà la direzione del futuro. Noi saremo a Lima fra qualche mese, all'inizio di dicembre, poi saremo a Parigi 2015, dove tutti i Paesi del mondo, se le cose dottoressa vanno come devono andare, ci si impegnerà a ridurre sensibilmente da qui al 2030 e poi al 2050 le emissioni di CO2. Allora noi possiamo vivere quei cambiamenti, queste strategie, risparmio di acqua, risparmio, riduzioni di CO2, come una grande sventura e dire oddio queste cose ci costano, come faremo a fare gli interventi necessari per arrivare a quell'obiettivo, o possiamo viverli come una grande opportunità sociale ed economica. Io sono per la seconda cosa, sono perché su questo si costruisca un piano strategico del Paese e che l'Italia diventi un Paese leader in questo, il che vuol dire farci tutto intorno. Ad esempio, per questo progetto è indispensabile la ricerca di base, io credo che il nostro Paese oggi la ricerca di base su questi temi la debba sviluppare fortemente, il che vuole dire che le risorse che abbiamo su Horizon 2020 devono andare in questa dire direzione, perché costruire un piano strategico vuole dire questo, vuole dire mettere tutte le energie possibili e rilevanti di un Paese per il raggiungimento di un obiettivo e io credo che questo obiettivo ne valga la pena e ne valga la pena e come e se noi sapremo sfruttarlo faremo da una parte una salvaguardia dell'ambiente molto forte e raggiungeremo un obiettivo importante. Dall'altra parte daremo anche molto spazio, molto incentivo all'economia, alla crescita e all'occupazione di questo Paese. L'ultima cosa, perché me la sono dimenticata prima, non peraltro, riguarda lo spreco alimentare, che ha a che fare molto con lo spreco dell'acqua. Noi su questo ci stiamo puntando fortemente. Faremo un convegno, lo dico alla direttrice Boccova, proprio il 24 di novembre a Bologna, dove abbiamo chiamato all'interno dei meeting del semestre europeo, dove abbiamo chiamato gli altri ministri dell'ambiente a livello europeo, alcuni quelli che hanno le pratiche più avanzate, ci confronteremo su quello e porteremo avanti in quell'occasione il nostro piano contro lo spreco alimentare e facendogli fare dei passi sensibili in avanti. Io credo che questo sia un altro di quei tasselli indispensabile per il nostro Paese. Grazie.